Volevate che si intassi in Italia e noi ci siamo aperti in Europa. Volevate chiudere contro di noi i cancelli della vostra fasulla democrazia. E allora, come vi dicevo prima, la destra o è coraggio o non è? È libertà o non è? È nazione o non è? Così vi dico adesso, la destra o è Europa o non è? E vi dico qualche cosa di più, l'Europa o va a destra o non si fa.